Musica Guardate, questa provincia, questa città vengono vissute attraverso un racconto troppo spesso negativo un racconto che dice che in questa città non si può rimanere io voglio essere con voi uno che fa politica veramente e fare politica veramente, nel senso più nobile della parola vuol dire confrontarsi giorno dopo giorno, ora dopo ora, minuto dopo minuto con tutti voi se riterrete che al di là delle elezioni del 31 maggio con me si possa costruire un rapporto io vi chiedo di mettere tutto il meglio che avete dentro e che è di tanto per votare un'altra idea di politica per votare una persona che possa andare lì a rappresentarsi da te L EV u licencia! L EV licencia! L EV licencia! L EV licencia! L EV licencia un va! Grazie a tutti